Perché fare la latmashina a presa singola? Farlo a presa singola ti permetterà di portare il gomito più basso, inclinando anche leggermente il busto e andremo a colpire di conseguenza le fibre più basse del grande dorsale, carenti nella maggior parte delle persone. Non oscillare, altrimenti perderesti tensione sul muscolo che vogliamo lavorare. Il movimento deve essere bello da vedere e controllato. Non elevare la scapola, tenere la scapola depressa, ovvero le spalle lontane dalle orecchie, e poi trazioni. Ultima cosa, non chiudere l'angolo del gomito. Se chiudi l'angolo, tirerai tanto con le bicipite. Quindi non chiudere l'angolo tra avambraccio e braccio e pensai a portare il gomito il più basso possibile.